Le casse per il rifornimento self-service e i due distributori di carburante a Benevento sono state svuotate nella notte da una banda specializzata in questi colpi. Il bottino non è stato quantificato nei dettagli, ma dovrebbe aggirarsi tra i 15 e i 20 mila euro. I distributori presi di mila sono quelli di Via Paolella e Capodimonte. Di fronte alla chiesa, l'allarme è scattato quando i gestori sono accorti che le casse presentavano due piccoli fori del diametro di circa 2 cm sulle apparecchiature utilizzate per accogliere il denaro dei rifornimenti self-service. Dei mini fori che erano stati sufficienti per aprire lo sportellino e accedere alla cassa dove il denaro che gli automobilisti inseriscono nel momento del rifornimento di carburante. È stato dato l'allarme, sul posto sono giunti gli agenti, la squadra volanti, la questura e quelli della polizia scientifica. L'elemento più allarmante è dato dalla maestria con cui hanno agito. Erano infatti al corrente del meccanismo che regola queste casse e non a caso il foro per forzarle. È stato fatto in un punto ben preciso. Questo può far ritenere che possono essere all'orizzonte altri colpi ai danni di distributori. Sono state arrestate per estorsione aggravata dal metodo mafioso 6 persone, la polizia e i carabinieri. Stamattina infatti è stata eseguita l'ordinanza richiesta dalla direzione di settuale antimafia della procura che fa seguito al provvedimento che in questo mese ha coinvolto 25 persone indagate per associazioni di tipo mafioso tentato omicidio, estorsione, porto e detenzione di armi illegali, antiriciclaggio e associazione a delinquere per il traffico di droga riconducibili ai gruppi criminali di Pagani, di Fezza e De Vivo. Per l'accusa a seguito dell'apertura di un'agenzia di autonoleggio nell'isola iberica di Ibiza grazie ad una collaborazione con il gestore di una società di nocera superiore gli indagati avrebbero costretto lo stesso, con l'uso di armi e metodi mafiosi, a rinunciare sia al proprio introito economico sia alla proprietà di 7 auto danneggiandolo per una somma di 50.000 euro. Da ieri mattina a Macerata Campania, coordinati dal capo e l'ufficio tecnico del comune sono in corso controlli sulle giustrine di tutti gli spazi pubblici presenti in città. Il provvedimento, sollecitato dal stindaco Stefano Cioffi, si è reso necessario in seguito al ferimento di un tredicenne residente al quartiere di Caturano che lo scorso 24 dicembre ha riportato traumi, contusioni, lacerazioni alla testa, al volto mentre giocava in piazza. Alcuni sostengono che sarebbe accaduto da un'altalena ma la dinamica dell'incidente è ancora da ricostruire. Il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta in condizioni preoccupanti. Lì è stato sedato, intubato e sottoposto ai primi esami. In via precauzionale è stato poi condotto al Stanto Bono nella struttura napoletana. Nel tredicenne è stato ricoverato in terapia intensiva e indotto in coma farmacologico. Dopo circa 24 ore di osservazione e di ulteriori accertamenti, il quadro clinico per fortuna è migliorato e i medici hanno disposto il trasferimento in reparto. È durata soltanto poche ore la fuga di un 43enne serbo condannato a 20 anni di reclusione e detenuto nel carcere di Carinola che è scappato dall'ospedale di Caserta. L'uomo era stato trasferito nel nosocomio per delle cure mediche urgenti. Arrivato in ospedale però è riuscito ad eludere il dispositivo di sorveglianza e a darsi alla fuga. Gli agenti e la polizia giudiziaria lo hanno riacciuffato nei giardinetti della stazione ferroviaria degli autobus nascosto dietro delle siepi e dopo una colluttazione lo hanno arrestato e riportato in carcere. Dovrà comparire davanti al giudice per il processo per direttissima per evasione e resistenza pubblico ufficiale.